e io in questo momento devo offrire i miei omaggi, i miei rispetti ad un altro insegnante il Guru Purnima è un festival generico, è il festival di tutte, la ricorrenza di tutti i maestri però alcuni di loro hanno un significato storico rilevante, speciale e colui che ha una rilevanza storica molto grande è Shri La Bhakti Vaibhava Purimaraj I know Shri La Bhakti Vaibhava Purimaraj even before he ever came to the west il Guru Deva conosce Shri La Bhakti Vaibhava Purimaraj prima che venisse in occidente non tantissimo, non per esempio come lo conosceva Vasu Gosha si è stato con lui per tante volte ma il Guru Deva dice che aveva con Shri La Bhakti Vaibhava Purimaraj una relazione molto dolce ma che questi anziani spiritualisti potrebbero venire 12 volte 11 volte potrebbero venire 11 volte in Italia iniziando 700 discepoli in Italia oh mio Dio questo è veramente il piano di Krishna e non solo lui venne qui ma non venne solo qui ma girò anche per l'Italia non solo venne a terra e invitò tutti gli italiani in India ogni volta che vado in India vedo tutti gli italiani Purimaraj sono italiani tutte le volte che vado in India vado nel posto di Purimaraj e vedo qualche italiano e ancora di più la mia relazione con lui fu molto intima perchè io lo servivo nell'Associazione Mondiale Vaishnava e con lui mi sono successe cose molto speciali però insomma questa cosa non è importante la cosa importante è che la cosa importante è che Krishna ha ispirato i suoi umili devoti di venire in Italia e di salvare i devoti e quanti potenti devoti ci sono adesso io vengo qui per purificare me stesso e rendere loro del servizio voi siete tutti molto molto meglio di me voi siete tutti molto molto meglio di me questa non è falsa amica questa non è falsa amica ve lo dico perchè voi tutti sapete parlare perfettamente l'italiano e io no e per predicare la gloria di Krishna in Italia e per predicare la gloria di Krishna in Italia bisogna parlare l'italiano come il nostro Brajendra che è un predicatore lui può utilizzare il linguaggio italiano per fare qualsiasi cosa quindi io vengo qui come il vostro servo per darvi un po' di scorsa come on what's going on cosa avete fatto per Purimara? in più tra Purimara e Shrila Bhaktivinanta Swami Prabhupada non c'è differenza Shrila Purimara sempre enfatizza l'importanza e la grandezza di Prabhupada questo è un fatto nessuno dubita su ciò è una cosa così bella, meravigliosa è una situazione meravigliosa Shrila Prabhupada voleva che tutti stessimo insieme lui ci ha dato questa possibilità e e he taught us what is Vishwa Vajnavra Chava e Prabhupada ci ha insegnato cos'è l'Associazione Mondiale Vajnavra non ci sono stati tanti maestri indiani che hanno dato un supporto all'Associazione Mondiale Vajnavra come lo ha dato Bhaktivinanta Swami Prabhupada non ci sono stati tanti maestri indiani che hanno dato un supporto all'Associazione Mondiale Vajnava come lo ha dato Bhaktivinanta Swami Prabhupada lui era sempre pronto sometimes we had the meeting in his temple qualche volta abbiamo avuto l'incontro, i meeting nel suo tempio or or he would come or send somebody oppure lui veniva oppure mandava qualcuno he was very spontaneous lui era molto spontaneo I remember one time io mi ricordo una volta I was in Vrindabana ero a Vrindabana e un devoto mi invitò per la installazione delle immagini sacre delle divinità e perché questo devoto aveva costruito un tempio però non sapeva il rituale per l'installazione delle immagini sacre delle divinità e e allora mi invitò perché lui aveva preso la il 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 l' il 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 in il 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 Quindi quando andai lì per l'installazione delle immagini sacre, io vedi che era un po' una confusione, nessuno sapeva cosa fare. In quel momento Shila Bhaktivai Bhava Purimaj, lui stava facendo la circumambulazione di Vrindavan, con molti dei suoi sannyasi. E quindi lui entrò e allora Gurudeva diceva, oh Purimaj che bello che sei qui. E Shila Purimaj mi diceva, che succede? E Shila Purimaj mi diceva, noi vogliamo installare le divinità ma non sappiamo come. E allora vedi Shila Purimaj entrare in azione. Questa storia non ve la dice nessuno, perché nessuno sapeva come era la situazione. Lui praticamente si sistemò in una sedia. E poi con tutti i sannyasi, Brahmachari, Brajendra e tutti. Con tutti i sannyasi. E' stata una grande installazione di divinità organizzata. E miso in moto tutti i suoi sannyasi con i suoi servitori Brajendra e tutti quanti. E ne uscì fuori una organizzatissima installazione delle divinità. Quindi tutto quello che hanno fatto tutto loro. Grazie. Fino alla fine. Quindi questo è Purimaj. Questo è Purimaj. E' un genuino, spontaneo Ragabatma. E' un genuino, spontaneo Ragabatma. E' un genuino, spontaneo Ragabatma. Non l'avrebbe nemmeno accettato. Perché lui sempre enfatizzava sempre la predica organizzata. E quindi Guru Maraja offre i suoi omaggi a Gurudeva Shira Bhatti Vaimava Purimaj. Specialmente in modo speciale qui in Italia. Ma anche in Spagna. Austria. In Germania, è venuto anche al nostro tempio molte volte. E in Mexico, l'abbiamo ricevuto anche in Messico. Quindi vi immaginate una specie di amicizia globale. Quindi il Guru Purnima è il giorno nel quale noi preghiamo tutti i maestri spirituali. e il maestro spirituale originale, il Signore Krishna stesso. e questa mattina, nel tempio là, abbiamo un altro piccolo Guru Purnima, in un cerchio intimo. e quindi stasera, al tempio Shri Garbac, vedete informazioni dove avremo una piccola celebrazione intima. e come io ho detto, il nostro caro fratello, il nostro sannyasi gold, il nostro sannyasi che si chiama Bhaktivedanta Siddhanti Maharaja. Lui era qui dall'inizio di tutto quanto. uno dei primi discepoli spagnoli di Bhaktivedanta Svame Prabhupada e era un attivista qui. che è venuto qui con noi. e tutto ciò nel giorno del Guru Purnima, siamo insieme a dire, Shri Prabhupada, noi torniamo la vita a te. per favore, per favore, Prabhupada, fai qualcosa con le nostre vite. in modo che noi possiamo concludere la nostra vicenda in questo mondo del tuo servizio. e io sono così felice dei devoti di Terni perché hanno fatto un posto così bello, un centro di incontri così attraente. e tutta la nostra famiglia spirituale in Italia sono molto amorevoli. sono molto amorevoli. per favore, seguite il motto della famiglia Vrinda. per favore, seguite il motto della famiglia Vrinda. mai un passo indietro. e in nessuna condizione, litigare fra di noi. non importa cosa facendo, non fai con loro. qualsiasi cosa succeda, non litigare fra di noi. porta avanti. e in questo modo nessuno ha bisogno di andarsi. e con queste parole io vorrei sentire le parole di Siddhanti Maharaj. ma poi, in fine, se avete altre domande, siete benvenuti. grazie.